Oltre 4 milioni per le aziende danneggiate dalla chiusura del viadotto Puleto, sotto sequestro dallo scorso 16 gennaio ed ancora chiusa il traffico pesante. Questa è infatti la dote finanziaria di un bando regionale per la concessione di microcredito. A renderlo noto è stata la regione toscana spiegando che le domande potranno essere presentate dal 18 aprile sino al 25 marzo 2020. Il bando è rivolto alle imprese che si trovano nei comuni di Anghiari, Bagliate d'Aldac, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve Santo Stefano, Sansepolcro, Sestino e Chiusi della Verna. Per poter accedere occorre aver subito un danno indiretto, un decremento del fatturato pari o superiore al 10% oppure un aumento sempre pari o superiore al 10% dei costi di trasporto dovuti alla forzata percorrenza di tratte autostradali o stradali aggiuntivi in conseguenza della chiusura della E45. L'aumento dei costi o il decremento di fatturato per un importo minimo di 5.000 euro costituisce infatti la soglia minima per la concessione del microcredito. Tra le spese ammissibili rientrano tutte quelle connesse alla ripresa e al funzionamento delle attività che hanno subito danni indiretti dalla chiusura della viabilità. L'agevolazione viene concessa sotto forma di finanziamento agevolato a tasso zero, non supportato da garanzie personali e reali in regime dei minimi. L'importo può variare da un minimo di 5.000 euro fino ad un massimo di 20.000 per ogni singola domanda.